La Sagra Paesana Sì, grande divertimento per i grandi ma anche per i bambini, grande successo ha riscontrato la zona dei gonfiabili e la zona della parete attrezzata per l'arrampicata. I genitori molto contenti ci hanno fatto i complimenti per questa cosa. Un programma dunque anche quest'anno ricco di appuntamenti e di attività come le passeggiate naturalistiche o il percorso in mountain bike per i sentieri del posto e poi ovviamente le bontà da mangiare, tutte fatte in casa come gli strozzapreti, la verdura cotta e la trippa che se unite alla crescia di Montegiano inducono in tentazione anche le diete più rigide. Abbiamo raggiunto un bello obiettivo, insomma siamo riusciti a portare tantissima gente in questo piccolo paesino che magari molti non sapevano neanche che esisteva. La nostra crescia e anche tutte le altre cose direi hanno avuto un grande successo. Che dire? Grazie a tutti gli sponsor, a tutti i volontari che dal giorno da tanto tempo lavorano. Siamo qui anche il prossimo anno e vi aspettiamo per una nuova edizione.